ciao ragazze buongiorno e benvenute tutte in questo nuovo video eccomi ritornata con uno dei video più amati e adorati qui qui sul canale oggi voglio portarvi sul canale appunto lo spacchettamento dei prodotti che tendo ad acquistare sempre quindi i miei mai senza ecco il rifornimento base dei miei prodotti preferiti quindi stiamo parlando di due aziende diverse michelle nails e passione unghie io intanto vi volevo ringraziare tantissimo a tutte voi perché siete state davvero tante io non so per chi non mi seguisse su instagram ho subito un intervento la settimana scorsa martedì della settimana scorsa adesso sono ancora in convalescenza però sto molto meglio riesco tranquillamente a parlare ecco mi mancava un po questo questo aspetto dei social mi è dispiaciuto davvero tanto abbandonarvi abbandonarvi in questo in questo lasso di tempo ecco sono tornata sono tornata più carica di prima vi romperò le scatole con i miei mille spacchettamenti e mille storie su instagram e niente io direi di incominciare subito inizio con magari con passione unghie che sono appunto i prodotti fissi ecco quelli che compro sempre allora le mie scorte ecco allora ho fatto scorta di acryl gel solution io come sapete utilizzo spesso e volentieri l'acryl gel c'è uno dei miei metodi attualmente preferiti e quindi ho fatto scorta del mio acryl gel solution che è appunto la soluzione per modellare l'acryl gel e questa è venuta 6 euro e 99 l'uno quindi ne ho prese due per avere per avere di scorta anche perché il mio che ho acquistato da gamax il dubli sta per terminare quindi ho bisogno di scorta e ho preso questi qui poi ho preso un primer di scorta perché mi stava il mio è quasi proprio terminato e quindi lo l'ho preso come sapete su tutte le mie le unghiette che si presentano davanti ma bensì su unghie problematiche che soffrono di peridrosi ecco non va bene su tutte però ecco tenerlo fa sempre fa sempre comodo poi ho preso come rifornimento che ecco mi era finito ho preso l'esp 101 natural questo per chi per chi mi segue sul canale sa che uno dei colori che acquisto sempre perché mi va mi va veramente tanto lo utilizzo per tantissime cose è un colore molto molto naturale lo utilizzo come magari ne so la cliente fino all'ultima ancora indecise su cosa fare magari decide di fare un french io sotto non ho una base perfettamente omogenea e quindi vado a stendere questo questo colore qui mi verrà mi va a rendere tutto tutto omogeneo o per chi desidera semplicemente un color natural un camouflage quindi questo colore è veramente un un passepartout ve lo consiglio tantissimo questo l'ho pagato a prezzo pieno non avere sconto quindi 8 euro poi ho preso la mia scorta del mio amatissimo acril gel cipria uno l'ho già aperto perché l'ho messo già in postazione pronto per essere utilizzato e appunto preso l'acril gel cipria chi appunto già mi conosce sa che è uno dei miei amori folli io l'ho scoperto relativamente poco forse un annetto che ho scoperto la colorazione l'acril gel cipria in barattolo quindi lo prediligo io prediligo assolutamente gli acril gel in barattolo rispetto a quelli in tubetto perché questi in barattolo risultano un po più facili da modellare da lavorare mentre quelli in tubetto già risultano un densi un po più capricciosi se così vogliamo dire quindi ho riacquistato il mio acril gel cipria vi faccio vedere ne acquistate due confezioni anche se mi dureranno veramente poco la colorazione è questa non so se riuscite a percepire realmente dal video come vedete si muove non è fermo proprio non è rigido è un ottimo un ottimo prodotto io ve lo consiglio ve lo consiglio assolutamente se cercate magari un buon acril gel che potete utilizzare davvero per tante cose perché l'utilizzo per fare il baby boomer per fare appunto una struttura dove sopra voglio andare a ricreare il mio french in superficie l'utilizzo davvero davvero per tante cose e anche lasciato così ecco acril gel acril gel alimata e lucido e via è perfetto questo qua ne ho presi appunto due barattoli poi 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 da passione unghie ho preso sempre di scorta un al prep perché il mio appunto stava per terminare quindi l'ho ripreso poi ho preso un'altra scorta e un'altra novità allora intanto questo è l'omaggino come come sempre passione unghie da un omaggino che sono quasi sempre glitter eccoli qua non forse le avevo già comunque io la mia palettina dove poi li vado li vado a metterli levo da questa confezione qui poi ho preso sempre come scorta il mio base top non ve lo apro perché appunto è un una scorta però vi faccio vedere quello che io ho già aperto quello qui ora ecco giusto giusto sta per terminare ottimo non per niente ovviamente ho preso quello nuovo comunque è un lucido abbastanza liquido non è non ha una densità elevata è ottimo come lucido per sia per il semi permanente lo utilizzo spesso anche per il gel io comunque seguo tantissimo il semi permanente con rinforzo quindi questo il mio è un mio must non può mai mancare mi risulta lucidissimo dura mi trovo bene veramente un ottimo lucido quindi ovviamente l'ho ripreso poi un'altra l'ultima cosa che ho preso da passione unghie che è una novità ho preso il nuovo master gloss master gloss appunto un sigillante senza dispersione passione di passione unghie o ultra gloss eccolo qua che ho adorato per un periodo di tempo però lo l'ho un po abbandonato perché ci sono dei lucidi senza dispersione e nettamente migliori tra cui l'extreme shine di passione unghie per me imbattibile mi sto trovando anche molto bene con lo shine diamond di gamax molto ottimo pure pure questo sempre senza dispersione e questo punto senza dispersione lo proverò magari lo proveremo dopo insieme per stendere i miei colori che ho preso due colorini che ho preso da michelle nails bellissimi e quindi magari lo proviamo insieme che dite e questo lucido vabbè il solito prezzo di lucidi 11 99 con passione unghie abbiamo terminato non erano cose interessantissime però volevo farvi vedere realmente quali sono i prodotti che tendo ad acquistare sempre quindi non devono per me non devono mai mancare questi prodotti mi sentirei persa quindi ora che ricomincio a lavorare ho fatto una scorta generale di questi prodotti allora io passerei a michelle nails visto che comunque non sono tante cose né dell'uno né dell'altro quindi ho preferito accorpare il video e rendervi contente un po tutte allora prima prima cosa che mi tolgo da michelle nels l'omaggino michelle manda sempre o anche lei un omaggino graditissimo uno smalto e il colore penso sia questo 801.6 o il 39 sì forse il 39 comunque uno smalto classico che io non utilizzo ormai più da tempo però ecco può sempre tornare utile non fa mai male grazie poi ho preso finalmente una novità dal sito di michelle sono usciti gli acryl gel in marattolo michelle prima aveva solamente gli acryl gel in tubetto vi faccio vedere eccoli qua questi sono gli acryl gel di michelle da 30 ml anche questi anche questi sono usciti purtroppo nel formato 30 ml non 50 ml però ecco per provarlo va più che bene non ho mai provato acryl gel in barattolo solo in tubetto mi sono trovata veramente tanto bene ho preso la colorazione pink shell come sapete il mio amore comunque per il per il rosa lo diciamo ecco dato una sbirciata però non l'ho aperto ancora anche perché è stato messo in una posizione veramente tanto scomoda che era tutto ribaltato avevo paura di combinare di combinare dei casini allora la colazione la colorazione a primo impatto non l'ho trovata molto interessante nel senso è una bellissima colorazione però sempre per me troppo innaturale non io come sapete prediligo le colorazioni o devono essere lattiginose molto quasi trasparenti oppure io devo avere una coprenza però del genere io non posso andare a utilizzare ecco una colorazione simile per andare a effettuare un french o altro lo devo è un acryl gel che da utilizzare dovrò utilizzare o appunto lasciato così solo acryl gel lucido o sopra devo stendere un monocolore ecco non è un prodotto che io posso utilizzare per tutto come il cipria di passione unghie è quello che voglio voglio farvi capire me l'aspettavo ecco più naturale come colorazione del sito evidentemente non ho capito bene anche perché ho fatto l'ordine in veramente poco tempo e quindi ho ordinato proprio le cose che mi servivano gli essenziali e via comunque sono molto contenta di averlo preso lo proverò vi farò sapere sicuramente come mi trovo voglio dirvi il prezzo il prezzo dell'acryl gelise 15 euro il brattolo da 30 grammi non è tanto anzi è veramente poco vedremo vedremo come ci trovo vi farò sapere magari scrivetemi giù nei commenti se siete interessate ad una recensione più approfondita poi ho preso lascio il pezzo forte per ultimo ho preso sempre il rifornimento della delle mie rubber base io le amo le amo follemente sia per effettuare un semi con rinforzo su unghia su unghia veramente corta comunque perché non è molto rigida a differenza ora vi farò vedere di un altro prodotto che utilizzo invece anche su unghie leggermente più lunghe con semi con rinforzo quindi questo l'utilizzo come base gel appunto per effettuare i miei semi permanenti con rinforzo sono delle basi ottime io non smetterò mai di dirvelo ve lo ripeto in ogni video è un prodotto che mi ha rivoluzionato veramente il metodo il metodo di collaborativo duraturo proprio del lavoro in sé ho preso io due colorazioni la cover beige e la camouflage cipria vi faccio vedere la cover beige che è una delle mie colorazioni preferite al momento tra quelle che ho provato eccola qui proprio una base veramente naturale veramente naturale questa l'utilizzo principalmente per i semi con rinforzo mentre per il gel utilizzo questa che la colorazione mi piace un po meno quindi alla fine come base gel va più che bene ed è appunto la camouflage cipria si questa appunto una colorazione già più non mi piace particolarmente però comunque va più che bene dici vabbè perché non prendevi due cover beige ho sbagliato a prendere questa qua per chi l'ho provata tempo fa e sapevo già che non mi piaceva la colorazione convinta di aver preso un altro tipo di rosa per provare la colorazione ho sbagliato di nuovo quindi vabbè di sicuro le finirò poi appunto il prodotto che vi dicevo che utilizzo per i miei semi permanenti con rinforzo su unghia più lunga è sicuramente la fiber questa di michelle è la fiber colorazione rosa chiaro quindi questa è la colorazione bellissima veramente bella questa è una bellissima colorazione c'è meravigliosa veramente meravigliosa io ce l'ho già se non sbaglio ecco no un'altra colorazione io ce l'ho in natural questa è rosa chiaro che è bellissima la riacquisterò sicuramente è natural natural pure mi sono trovata molto bene come colorazione sto inquadrando sì ok eccola qui questa è la natural che ho già che sto terminando che ho adorato e infatti oddio l'ho lasciata aperto e che ho infatti riacquistato ottima 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 base ve la consiglio poi ultimi ma non per importanza ho preso due gel color della linea preti gel sono degli smalti semi permanenti colorati aspetta vi faccio un po di zoom ok bellissimi ragazze bellissimi io ora li aprirò con voi e penso che sognerete insieme a me sono precisamente il 25p e il 22p della linea platinum io ho già preparato appunto le mie le mie tip e sono precisamente questi due colori qui sognate sognate insieme a me wow c'è ragazze non non riesco ad avere parole per un colore simile è decisamente il mio preferito e poi è lui che io pensavo fosse più violetto però controllato dal sito ed effettivamente argentato quindi ho sbagliato io oppure ne volevo prendere un altro comunque guardando la linea che è li prenderò tutti c'è tutte le colorazioni il prossimo ordine le prenderò e questo è sì un argentato lilla celeste non si ecco non forse più celeste comunque veramente bello anche lui veramente tanto bello sì forse più celeste sì 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 ora che si è mischiato ragazze mi sembrava più argentato invece no è proprio va sul celeste meraviglioso allora vi faccio vedere andiamo a stendere il 25p che è quello rosa molto densi molto densi come colori lo scovolino mi piace tanto è abbastanza ampio così stesso sulla tip mi mi piace il colore non ho parole il colore meraviglioso colore veramente tanto bello ed è una sola passata quindi consideriamo con due assenere il 22p sì che proprio un azzurro allora non ho sbagliato ragazze no non ho sbagliato assolutamente è un azzurro non è un argento evidentemente il colore ancora si doveva si doveva mischiare bene ora che l'ho mischiato è uscito realmente il suo pigmento mi sembrava strano di aver ordinato un argento perché ce l'ho già così ce l'ho già così ho anche dei lucidi che rendono questo effetto quindi argentato non l'ho voluto prendere esplicitamente comunque wow mamma mia ragazzi sono innamorata di questi colori allora ragazze vado a lucidare dopo la seconda passata con master gloss la consistenza mi piace tanto mi piace tanto come si stende proprio nella consistenza che io adoro dei lucidi perché facile da stendere non è troppo liquida non è troppo densa allo stesso tempo lascio un attimino la tip in giù qualche secondo per livellare un po il lucido vado in lampada aspettiamo non so quanto richiede qui 120 secondi a 30 secondi non di led addirittura io però faccio fare anche 60 secondi allora ragazze ecco qua i colori appena usciti dalla lampada sigillati questo è il master gloss di passione unica questi sono i colori di michelle bellissimi entrambi momentaneamente di lucido sembra sembra ottimo avrò modo ovviamente di provarlo meglio e vi vi saprò dare una recensione più dettagliata ragazze questo era questo era tutto il mio rifornimento generale io vi ringrazio per avermi seguito per essere qui magari se se vi va lasciatevi un commento qui sotto che mi fa davvero tanto piacere quando li dicevo quindi andatemi magari a seguire su instagram e niente ragazze vi mando un grosso abbraccio virtuale ci vediamo al prossimo video ciao